Uno dei padri fondatori della geopolitica contemporanea, Yves Lacoste, francese, scrisse un libro che si chiamava La geopolitica serve anzitutto a fare la guerra. Io credo che serva anche a fare la guerra nel senso che chiunque debba affrontare in termini militari un conflitto non può prescindere dall'analisi geopolitica. Il problema è che molto spesso i responsabili politici che poi danno gli ordini militari o almeno dovrebbero darli, spesso essi stessi invece prescindono da questo tipo di analisi, per cui alla fine l'arte militare diventa una sorta di disciplina autonoma che i comandanti militari esercitano secondo i loro talenti, le loro prospettive e i loro interessi, qualche volta anche in modo del tutto distaccato dalle istanze politiche cui fanno riferimento con il risultato di rendere più difficilmente interpretabile e anche difficilmente risolvibile la guerra.